L'Unione Sportiva Rovetta sta già organizzando l'attività per l'estate, per quanto riguarda in particolare i due impianti che gestisce, quello di Rovetta dove ci troviamo e quello di Onore. Inizierei dai ritiri, l'anno scorso ci ricordiamo tutti il Pisa in ritiro a Rovetta, un'esperienza che si ripeterà anche quest'anno. Assolutamente sì, abbiamo riscontrato un grosso apprezzamento da parte del Pisa che ha deciso insieme a noi di rinnovare per due anni l'accordo del ritiro estivo. Pertanto a partire dal 7 di luglio di quest'anno e per l'anno 2022-2023 è confermata la presenza della prima squadra del Pisa Calcio. Il Pisa naturalmente è il fiore all'occhiello, squadra che lo ricordiamo milita attualmente in serie B ma ci sono anche altri ritiri in programma. Sì, come di consueto già da qualche anno, dal 20 di agosto in avanti abbiamo diverse società dilettantistiche che hanno scelto la nostra località, sia per gli impianti che per la ricezione alberghiera, per fare il proprio ritiro estivo. Squadre dilettantistiche principalmente giovanili che vengono principalmente dalla Lombardia, quindi dal Piacentino, dal Milanese e anche dalla Bergamasca. Non dimentichiamo poi l'attività rivolta ai ragazzi e che novità ci sono per quanto riguarda i camp estivi. Allora, per quanto riguarda i camp estivi anche lì siamo molto attivi, nel senso che ha avuto un buonissimo seguito, riscontro, il camp Rovetta organizzato da noi per l'ultima settimana di luglio e di agosto, i camp dell'Inter che riproponiamo per le 5 settimane e la novità importante di quest'anno sono i camp targati Valencia, società che milita in Serie A spagnola, in Liga. Soffermiamoci appunto su questa esperienza targata Valencia, a che età è rivolta e come si svolgerà? Il camp Valencia è rivolto a ragazzi dai 6 ai 15 anni, è giornaliero quindi senza il pernottamento e è molto molto interessante perché è totalmente svolta da tecnici spagnoli del Valencia, quindi ufficiali con il loro metodo di allenamento. È una novità e per le iscrizioni che avverranno entro fine aprile abbiamo una promozione in corso molto interessante.